Questo video è offerto da DRB Autronica e Italian RP Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua per continuare la serie dell'RB34, ci siamo lasciati la scorsa volta con il piccolo problema sui pistoni che ci aveva portato a dover cambiare anche i pistoni che andavano messi con il martello perché non erano precisi visto che tutti i componenti sono tutti uguali, sono tutti bravi eccetera eccetera però non è così nella realtà dei fatti. Adesso andremo a fare una piccola panoramica veloce dei componenti che non avevamo ancora fatto dopodiché da questo video in poi inizieremo finalmente l'assemblaggio e l'arrivo alla chiusura finale del motore. Cosa abbiamo qua di interessante oggi da far vedere? Ovviamente partiamo dai pistoni. I pistoni sono custom, custom significa che è un disegno o un modello di pistone fatto fare appositamente. I pistoni sono ovviamente Italian RP come era già più che ovvio ma sono comunque speciali perché un pistone RB28, 26, 30 eccetera eccetera normale solitamente fatto in questa maniera, quindi con un cielo fatto con questa sorta di piramide che può essere più o meno alta perché c'è un discorso di rapporto e compressione. Rapporto e compressione, quindi ce ne sono due modelli, loro hanno high e low mi pare, high compression, low compression. I nostri sono totalmente diversi. Qui ovviamente c'è lo zampino di Mario che non si è accontentato e ha voluto fermare l'azienda per avere un disegno completamente piatto con questi due segni che si vedono qua che sono delle sacche per le valvole, giusto? E quindi in definitiva abbiamo anche come altra modifica, attenzione, i pistoni di serie diciamo originali diciamo a vedere questi senza far vedere il brand solitamente sono fatti, questi sono quelli che entrano gli spinotti col martello e sono fatti con lo spinotto 21. Lo spinotto è questo qua che va inserito all'interno del pistone mentre invece Italian RP per quanto riguarda gli spinotti va ad utilizzare uno spinotto 22 quindi più grosso di quello originale. Perché fanno 21 è quello originale di serie, 22 è con le loro bielle, col kit bielle pistone. Quindi comunque loro lo vanno a maggiorare, lo fanno più grosso. Mentre invece qua, per quello che sono ancora più speciali, montiamo uno spinotto 23 quindi ancora più grande fatto appositamente per questa occasione. Perché abbiamo questo disegno così piatto e diverso rispetto a questo? Allora, è stato tenuto a questo passaggio valvole, vedi? Sì. Però tirando via tutto quello che c'è qua sopra è diventato piatto. E quindi di conseguenza guarda quanto sono più bassi. Esatto. Eh, come mai? Eh, eh, come mai? Il disegno piatto è perché noi abbiamo cambiato il disegno della testata. La camera di combustione l'abbiamo modificata. Ok. La camera della testa. Ok. No? E abbiamo passato per il pistone piatto e la camera della testa fatta completamente in modo diverso da come è originale. Ok. Perché qui stai parlando di pistoni che corrono, non abbiamo capito con che carburanti vanno questi. Perché loro hanno queste linee qua, ma non è una roba che... Per gli umani, secondo me, questa roba qua. Dici, no, non lo so, teoria, sono originali. Noi stiamo facendo una macchina stradale, quindi la macchina deve andare a benzina. Ma lei che va, ci andrà un po' di additivo. Certo. No? E quindi abbiamo studiato un'altra cosa. Sull'RB28 erano fatti così, se andate a recuperarvi il video che è qua sopra. A proposito di video qua sopra, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, venire a seguirci sulla pagina Instagram e soprattutto nella pagina dell'officina trovate il numero di WhatsApp dove scriverci per avere il primo contatto per i progetti tagliandi, insomma le lavorazioni, eccetera, eccetera. Detto questo, piccola chicca che ci tenevo a dirvi, che ne abbiamo già parlato nel video dove siamo andati proprio in azienda, è lo spinotto DLC che come vedete non è il solito colore, è un trattamento molto particolare che viene fatto sulle cam, su tantissimi altri componenti del motore e ha questo effetto che sembra sempre lubrificato, di conseguenza cosa può servire, cosa ci può salvare uno spinotto con questo trattamento qua, che costano un sacco di soldi? Sostanzialmente abbiamo sempre avuto il solito problema e ce l'hanno tutti, che quando tu vai a smontare il motore dopo un tot di chilometraggio, un motore pompato, esatto, lo trovi sempre rovinato, bruciati, scaldati, esatto, scaldati, segnati, dopo veramente tocca tirare lì via col martello, cioè quella roba lì non si è mai risolta, per il momento non è... In differenza di qualsiasi marca o brand c'è sempre quella aronia lì. Esatto, c'è sempre questa roba lì, quando era più grave si bloccavano e il motore cominciava a fare un rumoraccio che sembrava che c'erano delle campane dentro la porta di pitone, era sempre questa roba qua, secondo me, a mio parere, con questa roba qua non succederà più. Molto bene, infatti io su quando riesco, che il cliente me lo permette, perché purtroppo costano comunque di più, parecchio anche, cerco sempre di inserirli all'interno del kit. Un'altra nota dolente di cui poi però ne parleremo nello specifico sono le fasce, che vengono vendute con questa roba qua, con un avviso di morte, ed è tutta colpa tua, però andremo ad analizzarlo quando li monteremo, non ci interessa adesso. Passiamo poi alle bielle, che sono una grande parte molto importante, le bielle come i pistoni sono la serie più alta, che è la Platinum, come vedete qua, sono un po' sporche perché ci abbiamo lavorato, però Platinum, bellissime. Montano delle viti particolari, che non sono né le RP2000 che loro non utilizzano, ma utilizzano la sostitutiva, che è la Vimi, o le L19, che sono la versione più figa, più rinforzata. Bensì qui montiamo delle viti di biella che si chiamano Custom Age, che sono molto, molto, molto più dure, molto, molto, molto più elastiche, più resistenti e reggono tantissimo di più, cioè non è che sono meglio il 50%. È un salto... Un salto incredibile. Normalmente le bielle hanno sulla boccola questo... È uno scanso per far passare più olio, perché quando tu smontavi gli spinotti e li trovavi bruciati, davi la colpa che non c'era olio. Non c'era olio. Chi di più, chi di meno, chi ha provato a fare il laterale, chi io avevo visto anche addirittura una che aveva gli scassi. Vabbè, però diciamo che in genere hanno quel discorso lì, nelle bielle normali forgiate hanno quel discorso lì. Qui come vedete non c'è, non c'è uno stracazzo di niente a livello di canali, di solchi. Questo per quanto riguarda questa biella qua però, nella linea Platinum, se tiriamo fuori potrebbe esserci. Qui è una biella Custom. Hanno deciso di non farmi lo scanso, perché gli ho detto che la turbina era questa qua. Perché, secondo te, hanno fatto questa cosa qua? Per l'appoggio. A noi abbiamo sempre la stessa superficie d'appoggio. A noi ci cambia il carico. Più cavalli spingiamo, la potenza si trasforma in peso. Si parla di 80, 90, 100, 200, tanta roba. Dipende da fuori esponenziali, sia come la potenza che giri motorato e quanto. Se io ho la stessa base d'appoggio e aumento il peso, per farlo scivolare o aumento la base d'appoggio e quindi, se viene fatto lo scasso in mezzo, perdiamo superficie d'appoggio. Però ha discapito un po' della lubrificazione. Ma avendo quelli, quel poco di lubrificazione che perdiamo, se ne frega niente. Esatto, assolutamente. Sono molto contento di tutto ciò. Perché funzioni come una bronzina di banco, bisognava che l'olio corresse dentro alla biella in pressione, è impossibile. Non puoi fare una cosa del genere. Cioè non... E poi, soprattutto, qua non ci può essere lo stesso lasco che c'è qua. Perché veramente la potenza del motore viene appoggiata su questa cosa qua. Quindi lo spinotto è molto, molto importante. Esatto. Così abbiamo due millimetri in più, il trattamento sopra. Cioè, c'è stata un'evoluzione di questa cosa qua, mostruosa. Dove che prima non potevi scegliere niente, tu quello che trovavi dentro la scafola montavi. Non potevi avere sceglie. Vabbè, ma anche adesso quando vai a comprarti il set di pistoni di Manley, quello è. Poi va, puoi iscriverlo all'azienda, probabilmente ti mandano anche a cagare perché in Cina poi c'è un fuso orario diverso. Quindi una piccola panoramica dei pezzi l'abbiamo avuta. Ovviamente non abbiamo sviscerato tutti i segreti, proprio perché poi dovremmo dobbiamo andare a montarli tutti questi componenti, man mano poi andremo ad analizzare. Prima di metterci a misurare e montare, perché la cosa è lunga perché siamo sempre lì. Io sto smaniando per chiudere il motore. Però ogni volta che mi muovo c'è una roba, ah cazzo, dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare di quello, dobbiamo parlare di quell'altro, c'è veramente troppa roba. E adesso mi è venuto in mente che siccome era arrivato il momento di misurare il banco, le tolleranze del banco, non abbiamo mai parlato di questo mostro qua. Quindi dobbiamo parlare e spiegare perché abbiamo infastidito delle persone dall'altra parte del mondo per farci mettere questa roba qua sul motore. Nell'RB28 avevamo comunque una piastra che ci permetteva di andare a rinforzare il motore. Praticamente noi chiudevamo il motore. Prima di installare la coppa c'era questa piastra. Così è molto semplificato, in realtà bisognava fresare il blocco per metterla un po' complicato, però sostanzialmente visivamente chiudevamo il motore, banco tutto chiuso e tra la coppa e tutto il motore c'era questa roba qua. Qui la situazione è cambiata però. Questa è cambiata perché questa qua non è più rinforzo, ma è una struttura portante del motore. E questo è un pezzo di motore, questo fa parte del banco adesso. Questo è il banco, prima era separato. Era una piastra, quindi il motore originale è sopra la piastra per rinforzare. Questo no, qui sono le bronzine sopra. Ci sono le bronzine, tutto quanto. Questo serve per non fare andare in torsione. Però anche quell'altra piastra era per lo stesso motivo. Sì. Mi ricordo io, ti contraddico. Anche quella metto, fammi prendere quella piastra lì così non si torce il motore. Solo che quella costava, questo costava quattro volte tanto. Perché hanno fatto delle prove e hanno visto che la piastra montata esternamente, quindi quella che tu vai ad aggiungere, no, teneva una determinata tipo di torsione. arriva a un certo punto, cioè non è che tu li metti sulla piastra, che li metti sulla piastra di rinforzo e sei a posto. Va fino a un determinato punto, funziona quella cosa, ok? Perché? Il problema è la turbina. Perché? Sempre quello. Perché quella piastra era in lega, era in alluminio, era leggera. Infatti ti volevo chiedere, perché quell'altra piastra lì era strafiga, tra l'altro potevo scegliere anche il colore, la potevamo fare tutti i colori che volevamo, perché era in alluminio. Perché questa fa così schifo? Facciamola vedere. Posso alzare? Non cadono le bronzioni. Non cadono le bronzioni. Non cadono le bronzioni. Pesa, eh? Pesa parecchio. Cioè, perché questa? È grezza. Cos'è ghisa? Cos'è sta roba qua? Questa qua? Adesso gli hanno dato questa colorazione bronzata, no? Perché semplicemente è ghisasferoidale questa. Ok. Ghisasferoidale. Che si avvicina molto al materiale del blocco. Perché non hanno scelto di farla più leggera? Perché dopo ti trovi con due materiali diversi che si muovono in modo diverso. Hai capito. E questa è una cosa pericolosa perché più aumenti la potenza, più aumenti quello che devi andare a fare e più devi essere preciso. E quando hai delle tolleranze da centesimi di millimetro, ok? Cinquecentesimi, seicentesimi, no? Statico e a freddo. Se la piastra d'alluminio si dilata in un modo. Il monoblocco si dilata in un altro, vola via il banco. L'albero motore già in mezzo, già qua hai ghisa, ghisa, acciaio. Certo. Può essere in ghisa l'albero. Eh no, dipende. Acciaio e bronzine. Bronzine che non sono sicuramente in ghisa. Esatto. Queste qua sono cinque strati o tre strati queste bronzine? Che non mi ricordo. Queste sono le calico, sono cinque strati. Cinque strati. Vedi che sono nere. Interessante anche sta roba qua, facciamola vedere. Facciamo infastidire un po' gli altri colleghi che ci mandano le frecciatine. Questa è una serie di bronzine, molto rara e difficile da reperire. Proprio perché sono tre metalli, diciamo tre strati messi insieme. Sono sicuro che scientificamente sarà molto più complesso di come la sto dicendo io. Che quindi permettono alla bronzina di lavorare meglio, resistere di più, rovinarsi di meno eccetera eccetera. Proprio perché questi tre strati di metallo, che mi pare, non vorrei dire una cavolata, perché è una cosa tanto tecnica che a me non interessa personalmente. Che addirittura questi tre strati di metallo sono diversi tra di loro. Non sono tre strati dello stesso metallo. No, assolutamente. Quindi questa non è una bronzine trimetallica. Pentametallica. Ma pentametalli lo sappiamo perché ce l'ha detto... Ti ricordi che non mi veniva in mente? Ce l'ha detto il Piera. Era pentametallica, ok? Quindi pentametallica perché sono cinque strati. Quindi questa è una novità molto molto interessante. Vista e usata molto poco perché sono molto difficili da reperire. Infatti questa cosa qua, se tu ti ricordi, che l'avevo trovata sul sito, quelle che c'erano le abbiamo comprate tutte. Le abbiamo comprate tutte, sì. Le abbiamo comprate tutte e dopo, se ti ricordi, per un anno sono sparite dal sito. Adesso sono tornate? Adesso sono tornate. Queste bronzine, una chicca che voglio dirvi, le bronzine classiche vengono prodotte dall'ACL, no? C'è l'ACL e poi ci sono altre marche che vengono... L'ACL dopo ha tre quattro linee e questa sarebbe stata l'ACL, la Race. Loro praticamente, a parte l'ACL, ci sono altre aziende che ogni tanto vengono fuori, che fanno bronzine, fanno schifo, mi fanno schifo proprio, ve lo dico, fanno cagare. Quindi dico, no, uguale, sono buone anche le altre, non è vero. ACL sono le migliori bronzine. Non sono in realtà ACL perché hanno fatto una collaborazione con questa azienda che si chiama Calico, che è un'azienda che fa materiale aereospaziale, quindi lavora nello spazio, nelle basi spaziali. Per qualche motivo l'ACL le ha fatto fare queste bronzine. Non c'è una spiegazione logica, però siamo contenti. Dobbiamo provarle. La prima volta che le usiamo su un motore potente, per cui dobbiamo provare. Però ne abbiamo fatto scorta. Ovviamente la stessa cosa si ripete qua. Da una super piastrona che per metterla abbiamo dovuto fare anche delle lavorazioni sul blocco, penso, no? Hai dovuto fare spazio perché per cercare di fare una piastra che rega la torsione, se tu vedi qua, no? Vedi? Per com'è fatta. Ok. No, vedi? È fatta così. Quindi in automatico quello che è stato messo qua è stato tolto nel blocco se no non passava. Quindi sono lavorazioni fatte. Vedi che si vede qua che non tocca. Sì. Quindi è stato tagliato praticamente. Fresato. Fresato. Fresato così. Vedi? Tutte. Per fare spazio e far passare. Infatti si vede la lavorazione. Esatto. Cazzo ma qua se uno sbaglia un calco una roba butti via il blocco. Per fare niente. Sì. Un lavoro molto complesso. Esatto. Complesso e delicato perché se succede qualcosa realmente ciao. Perché lei deve sopportare le torsioni che è sottoposta. Quindi è stato aggiunto più materiale possibile qua per poi dopo andare a installare la piazza sopra il blocco perché lo sforzo è tutto qua perché se tu giri il motore il peso finisce tutto qua. Che è la base. E prima era collegato solo con i cavallotti e i due tarantini. Sì. Invece adesso è una portante. Adesso è struttura portante del monoblocco. Infatti va chiuso. Dopo devi serrare tutto il giro come si deve. Ok. No. Poi dopo lo giri. Anzi ti dirò anche che qua andremo a fare una cosa strana. Lo montiamo sul cavalletto finalmente. Così sono contenti. Non se ne parla neanche i cavalletti. Ce ne abbiamo due. Ce ne metti la bicicletta. Ce ne abbiamo due vi giuro. No la voglio il cavalletto. No per ogni tanto ci scrivono. Non avete neanche un cavalletto. No. 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 Anche a mano. No. Va bene. No. 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 una roba del genere io ho visto che mi ha scoppiato il cervello quando fanno vedere che chiudono il motore della gtr 35 nismo c'è il robot che serva le due teste nello stesso identico momento camera sottovuoto a temperatura controllata le due teste il banco chiuse nello stesso momento esatto cioè è come se tu qua avessimo tutte le viti tutte che tu ognuno la sua chiave e tutti facciamo l'azione è impossibile però ci possiamo arrivare per gradi no è fatto a mano veramente sono questi questi sono i prigionieri di banco sono stati sostituiti con degli rp sì ma sono speciali perché non sono i classici prigionieri di banco che vanno su rb quindi quelli che comprate normalmente ben si sono una serie speciale più grossa sopramontava 11 mm su quelli classici da originale c'è le viti dopo tu originale vabbè le viti ma parliamo sempre di prigionieri l'upgrade era metti i suoi prigionieri rp 2000 però col filetto che c'è nel banco ok qua si è forato il banco per mettere dei prigionieri da mezzo pollice da poi stiamo parlando di 14 mm sono molto più grossi ma la roba i fatti sono che poi poi il materiale e si è rimasto sempre quello sì 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 perché non c'è un altro materiale non è che ti devi arrabbiare con me non ho potuto prendere altro materiale perché non c'è sulla testa che poi andremo a vedere lì abbiamo fatto più o meno la stessa cosa ma ho cambiato anche il materiale perché era disponibile qua perché non c'è un altro materiale non è come la testa che è sottoposta alla pressione della camera di scoppio ok questa una volta chiusa sta lì lui deve stare in quella posizione lì perché questo qua stiamo parlando sono tirati questi viti qua da mezzo pollice 10 kg che non sono niente perché la testa va un'altra roba che mi viene in mente a proposito del blocco sono il modo in cui abbiamo fatto fare le lavorazioni ad esempio per quanto riguarda la rettifica dei cilindri siamo andati ad utilizzare una passatesta chiami tu esatto che purtroppo non posso farvi vedere perché sta lavorando duramente avrà perso il colore mai perché noi la fase testa non abbiamo la classica fase testa alluminio fatta fare rettifica ma abbiamo proprio fatta fare addirittura personalizzata nodizzata non ce l'ho da farvi vedere perché mentre noi parliamo stanno facendo tutti gli rb che li abbiamo lasciato non si ferma mai quella fase testa lì sta morendo e praticamente è una una piastra bella alta mi pare così più o meno vuoi che ti faccio ti prendo quella come dovrebbe essere di solito quella un po più forte a far vedere se vuoi quindi compare qua una classica falsa testa o piastra di torsione come la chiamano all'estero perché se no non ci capiamo questa in particolare è per nissan 350 z per quelle tre cilindri sei cilindri normalmente quei pochi in italia che la usano che sono già da fargli complimenti perché sono veramente pochi utilizzano dei strumenti del genere quindi è una piastra ricavata dal ferro forata dove ci sono come vedete i buchi la guarnizione di testa la fissi su e fai noi non accontentandoci di sta cosa qua che ci sembra un po una caccata ce la siamo fatta fare appositamente e sarà quattro volte più alta di questa simula esattamente la testa la testa quindi cosa vuol dire simula esattamente la testa che è alta come la testa perché queste ok sono ci sta è comunque buono già usarle però quella simula esattamente la testa come altezza quindi cosa succede voi prendete il blocco ce la montate sopra e dopo andate a fare la rettifica dei cilindri e questa è una cosa che quelli bravi di solito devono fare perché se no vi fanno un lavoro de merda e vi possiamo assicurare che nel 90 per cento dei casi non viene fatto perché tante volte le rettifiche non hanno proprio questi strumenti specialmente su motori particolari magari per fare il t-jet ce l'hanno tutti per fare un rb no ma questo e poi dopo tendono a utilizzarla perché dopo con le falsette smontate anche più difficile la lavorazione certo è complicato però ne parlo poco perché è una cosa ovvia che bisogna usare la falsa testa non serve farci una scenetta un video chi se ne frega quello che mi piace è che abbiamo fatto la lavorazione quella sotto quindi quella del banco non con la falsa testa assolutamente cosa hai fatto fare questa una volta adattata nei lati tutto quanto come che stai costruendo il motore stai utilizzando una base però rifinire lo stai ricostruendo perché stai facendo delle cose che non c'erano ci sono va bene benissimo cosa e quindi l'ultima lavorazione una volta adattata la piastra i piani gli incastri tutto quanto i fori come hai detto tu una volta che tu hai fissato questa cosa qua e hai deciso che bronzino utilizzare ok devi forare la barenatura devi fare la barenatura che si chiama barenatura praticamente la barenatura è il modo per rifinire mettere in piano alla perfezione i fori esatto prendete questo poi diventa un foro tondo esatto allora bisogna con precisione fare la barenatura del banco che poi ci appoggia l'albero motore quindi se lo fai una merda allora qual è il punto fai la barenatura e basta super discussione perché se abbiamo problemi di torsione col motore tirando solo il banco bisogna anche per forza tirare la testa questa cosa qua non è andata avanti mesi finché sono andato la e abbiamo fatto le prove le prove cosa vuol dire che noi abbiamo montato la piastra montato la testa ma montata la falsa testa stai dicendo abbiamo fatto una vera testa abbiamo fatto tre prove la mia teoria era la barenatura va fatta dove il più possibile veritiero come montato il motore e quindi di solito se viene usata la falsa testa rimaneva su e si faceva la barenatura ok quindi fai i cilindri giri il motore fai la barenatura sta buon lavoro esatto non è andata così non è andata con la testa del motore montata perché è vero che la falsa testa simula la testa però non è vero perché manca la parte sopra no perché tu devi passare con l'utensia tutto quanto allora è una piastra forata allora visto che si era si era fatti precisi no e ho fatto le prove le prove vuol dire banco montato falsa testa montata e si torce in un determinato modo ok si prendono le misure si prendono le misure togliendo la falsa testa e montando la testa sono delle altre misure però cosa vuol dire che tu mi devi andare in rettifica e adesso che ci sono stiamo facendo tutti gli rb tutti gli rb verranno fatti così quindi c'è una testa che serve solo per quello si è trasformata con la faccenda non solo la falsa testa c'è una testata per fare la barenatura del banco esatto e poi attenzione stiamo svelando tanti trucchi tanto è più complicato di come l'aspetto noi sempre attenzione perché ci guarda noi spieghiamo ma lasciamo indietro sempre qualche più questo non è un tutorial noi stiamo solo spiegando quello che stiamo facendo dopo eventualmente più avanti faremo anche i tutorial completi ma lasciamo sempre indietro qualcosina quindi non è che uno guarda il video prende replica fa la stessa cosa non è così semplice giusto per farvi capire che qualcuno ogni tanto mi scrive ma come delle cose così svelate tutte queste robe qua i trucchi poi copiano non è così semplice non ci sono trucchi perché semplicemente se tu metti sul tavolo e metti anche tutto il foglio dell'istruzione no la cosa da quando inizia quando deve finire è talmente complicata che una metà strada si rompe i coglioni perché dopo con tutto montato il motore diventa così no vallo a mettere sulla macchina sulla macchina ho dovuto fare delle delle piastre apposta perché di solito lo appoggiano su qua no e invece no non ci sta più io ho visto tutto questa roba qua so tutto perché io ho visto la fattura finale dalla fattura finale ho visto che la macchina ha dovuto subire delle piastre che ci ha voluto più tempo che sono fatte delle prove si vede tutto non ti preoccupare ho visto tutto alla fine però va bene vedremo se il risultato ci ripaga insomma perché poi questo motore non solo lo monteremo ma lo smonteremo perché adesso decidiamo come abbiamo detto l'altra volta turbo piccolo turbo grande ci pensiamo ma in ogni caso dopo un totti chilometraggio lo tiriamo giù lo apriamo per far vedere le bronzine pentametalliche cosa hanno fatto questa barrenatura se è servita se è migliorata se è perfetto si sono rimasto dritto facciamo vedere tutto perché questo è un esperimento a tutti gli effetti non è una roba che stiamo facendo per un cliente che dobbiamo essersi cui qui possiamo usare e abbiamo usato tanto troppo scombussolato troppo cosa mi ha scritto l'altro giorno del cile che nel settore ti prendono in giro una roba del genere mi ha scritto una cosa così da me poi che poi i motori li punti tu e io vi rispondo così nel senso chi è veramente del settore non ci prende in giro ragazzi perché io ho parlato e collaboriamo con tanti nostri colleghi e credetemi che quando li sento parlare di questo motore rispetto alle lavorazioni che sono state fatte chi ne capisce e chi ha visto dal vivo queste cose qua viene la pelle d'oca nel senso perché è veramente una cosa tanto complessa ora dal video non renderà perché sembrano tante piccole cose ma anche quell'altro lì più vicino a voi ha fatto questa cosa non è così perché queste sono cose che sono state fatte veramente per la prima volta e la differenza tra mettere un prigioniero da 11 e mettere un mezzo pollice è abissale non tanto perché anche un altro può comprare mettere il prigioniero da mezzo pollice ma qua e sopra e sotto e la bronzina e la lavorazione e la costruzione di questa e il materiale cinque cose la pompetta dell'olio e le bielle speciali questa roba qua non c'era nessuno e non la vedrete mai più neanche qua perché questa è la prima ultima volta faccio un motore così perché non serve perché è troppo quindi chiuderei così ricordandovi di supportarci se vi sta piacendo questa serie io sto smaniando io in un video io vorrei fare come facevo di solito che vi faccio vedere mario che tocca un pistone e poi il video dopo stiamo accendendo la macchina non lo voglio fare perché ho promesso che sviscereremo tutti i segreti e tutti i particolari che abbiamo deciso di fare in questo motore quindi ci vorrà tempo quello che state vedendo è quello che stiamo facendo per cui nel momento in cui la telecamera si spegne ci fermiamo non andiamo avanti quindi immaginate me che vedo ogni giorno sto motore sul banco con la macchina senza motore per apprezzare questa cosa qua del mio aspettare per sviscerarvi tutto vi ricordo che vi dovete iscrivere al canale perché ci sono centomila persone che guardano regolarmente i video e non cliccano iscriviti che è gratis costa niente e soprattutto mettete like venite sulle pagine instagram specialmente quella dell'officina dove trovate il nostro contatto se volete contattarci come già state facendo in tantissimi per portarci la macchina a fare tagliando l'elaborazione o il video insomma quello che quello che serve vi ringrazio per essere stati qui con noi anche oggi ci vediamo nella prossima puntata del montaggio dell'rb 34 e grazie per stati con noi ciao ciao